Per la prima volta al 20 novembre il Corecom Piemonte ha risolto gratuitamente una controversia tra un utente di Torino e una compagnia telefonica che in precedenza non avevano raggiunto una conciliazione. Il gestore ha stornato gli importi delle fatture contestate e pagato 100 euro di indennizzo. Con le nuove deleghe ricevute dall'Agicom, il Corecom può infatti definire le controversie in seconda istanza ed evitare alle parti il ricorso al tribunale o all'Agicom. Le deleghe di secondo livello rappresentano un passo molto importante. Perché? Perché con la delega di secondo livello noi possiamo passare dalle conciliazioni alla fase successiva, a quella parte, circa il 13%, perché l'87% riuscivamo a conciliare le posizioni dell'utente con il gestore telefonico di telefonia mobile fissa. Invece con queste seconde deleghe diventiamo veri e propri decisori. In qualunque modo, quando non ci si mette d'accordo, saremo noi come Corecom a definire chi ha torto e chi ha ragione.